Il regista deve sempre aiutare gli attori a sentirsi al meglio col costume, ma il costume può fare addirittura l'80% di un personaggio, basta il costume e già ti senti quel personaggio. In questo film, il mio personaggio che si chiama Nikita, ho agito molto col costume, ma ha contrasto, nel senso che ho creato un personaggio molto normale, come vedete, è vestito anche per il mestiere che fa, un vestito nero, molto semplice, e una giacca, però guardatelo adesso. Sta vagando in Arizona, è vestito da coniglio, lui è dentro la pelle di un coniglio, quindi non ha neanche bisogno di cambiare troppo i costumi, è proprio da così alla follia del coniglio che per lui era l'animale che doveva essere cacciato, per cui se vi volete cacciare non vi cacciate più da uomo, ma cacciatemi da coniglio e io vi vesto da coniglio per voi.